Facciamo un passo indietro, due dipendenti di una cooperativa abilitati alla formazione per detenuti sono agli arresti domiciliari per essere stati sorpresi all'ingresso del carcere di Larino con oltre 100 grammi di hashish. Sarebbero al momento 7 gli indagati ma è escluso il coinvolgimento del personale della struttura detentiva. Sono tuttora in stato di fermo agli arresti domiciliari una giovane donna residente nella cittadina di Larino e un uomo della provincia di Bari, quest'ultimo con precedenti penali a carico dopo essere stati sorpresi in possesso di sostanza stupefacente rinvenuta in stick da deodorante all'ingresso della casa circondariale frentana. Secondo la procura la droga nella fattispecie 106 grammi di hashish era destinata ai detenuti. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta al Palazzo di Giustizia dal Procuratore della Repubblica Antonio Larana e dal Comando della Polizia Penitenziaria e dei Carabinieri di Larino. L'operazione, ha spiegato Larana, è stata resa possibile grazie a una proficua attività di indagine basata sulla sorveglianza e sul monitoraggio degli ingressi al carcere e sul contemporaneo utilizzo di intercettazioni telefoniche ambientali. I responsabili del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente sono due dipendenti di una cooperativa specializzata nella produzione di dolci, abilitati a fare attività di formazione professionale per detenuti all'interno della casa circondariale. Le dosi di hashish sono state rinvenute in tubetti da deodorante svuotati e riempiti con la sostanza per non testare sospetti nei controlli che di routine avvengono all'ingresso. Tentativo vanificato però dall'intervento dei militari. Ci sarebbero al momento altri sette indagati ma escluso che tra loro siano coinvolti gli operatori della struttura detentiva. Per quanto concerne l'uomo, venendo già da un percorso di reinserimento educativo e tenuto conto della tipologia di reato commesso, la pena è destinata ad essere inasprita. Questa indagine della luce è già da mese di febbraio, si è spinta con un'oculata attenzione della Polizia Meditenziaria nei controlli per quelli che sono stati oggetti e pacchi in arrivo a detenuti. Dopo aver notato delle anomalie di presenza di stupefacenti sia in tale situazione sia nella sala di strada a colloqui, si è deciso unitamente anche ai carabinieri dell'Aupena di Larino di attivare le indagini per individuare quale fosse il percorso attraverso il quale sostanza stupefacente dall'esterno nel carcere potesse accedere all'interno. Io non posso affermare che ci sono legami tra i nuovi e i recenti detenuti, posso dire che chiaramente questo manifesta che c'è una parte dei detenuti che assume sostanza stupefacente in carcere e sicuramente c'è un interesse a un commercio all'interno del carcere perché per la legge della domanda dell'offerta è ovvio che la sostanza stupefacente in carcere, che ovviamente non si reperisce così facilmente, assume un valore molto più alto e quindi è molto più remunerativo il commercio dello stesso. Lei ha parlato di una collaborazione anche con altre forze di polizia di fuori regione nell'esecuzione di queste due misure a carico dei due soggetti? In particolare per quanto riguarda le misure sul posto sono state la polizia penitenziaria della Casa del Conte di Larino e la compagnia Carabinieri di Larino. Per quanto riguarda il sostegno e l'esecuzione di misure di perquisizione nel Lazio, in particolare in Roma, siamo appalsi di quello che è un reparto speciale regionale interforze della polizia penitenziaria. Grazie. 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 Grazie.